Ma buongiorno Lord Antonio, veramente, lei è l'esempio di cosa significa essere un vero uomo. Lei sì che sa incarnare tutti gli aspetti di quello che è un vero uomo. Innanzitutto la sensibilità, il rispetto, la galanteria, l'educazione, veramente. Per chi non lo sapesse, spieghiamolo, o capitona, sarebbe, come dire, il simbolo, volendo dirlo così, napoletano, del membro maschile. E questo commento è stato fatto sotto una storia che io ho narrato, tra l'altro una storia vera, di una donna che purtroppo si trova ad avere una situazione un po' difficile con un uomo sposato, incinta, che non sapeva che quell'uomo era sposato e che deve scegliere se abortire o meno. Veramente, un commento, direi, proprio, come dire, sicuramente all'altezza delle sue capacità. Le auguro buona vita e spero che lei commenti con così tanta eleganza altri miei video. Buona vita!